Prova di forza della Stilese che riscatta la sconfitta interna di domenica scorsa contro la Gioiosa e si mantiene in quinta posizione, posizione utile per la disputa dei playoff. Fu una vittoria secca, quella del 5-2 contro un Borge che è rimasto in partita per quasi tutto il primo tempo, poi dopo il momentaneo gol di pareggio di Passafaro ha avuto diverse difficoltà in difesa per cui è stato superato parecchie volte da quel furetto che risponde al nome di Martinez, imprendibile proprio per la difesa borgese, autore di una tripletta e anche capace di causare il calcio di rigore poi fallito da Papalea. Dicevamo una partita che si è subito sbloccata nel primo tempo al secondo proprio con il centravanti avversario che dal limite dell'aria di sinistro ha trovato un langolino basso alla destra del portiere Mercurio. Poi Passafaro al 14esimo riesce a riequilibrare le sorti della gara con un calcio di rigore guadagnato dallo stesso numero 9 per un atterramento da parte del numero 5 Manno dell'Astilese. Subito dopo però al 25esimo c'è un calcio d'angolo a favore dell'Astilese e Zocco della Borgia non riesce a toccare bene il pallone tant'è vero che finisce alle spalle proprio ancora una volta di Mercurio per un autorete che ha del clamoroso. Poco dopo al 29esimo è ancora una grandissima azione da parte dell'Astilese in contropiede con Papaleo che se ne va sulla fascia destra e mette al centro quando trova solo liberissimo Tirotta che non può fare altro che mettere la palla in rete. Nel secondo tempo si va avanti a sprazzi con azioni da una parte dell'altra particolarmente ficcanti i contropiedi dell'Astilese che trovano spesso impreparata la difesa del Borgia e sempre Martinez e Papaleo che fanno il bello e il cattivo tempo ma non riescono a segnare. Tant'è vero che invece al 36esimo è il rientrante Mellace del Borgia a trovare il gol del momentaneo 2-3 con un bellissimo calcio di punizione dal limite. Passa appena un minuto sulla ripartenza dal centrocampo ancora una volta Martinez fa secca la difesa della Borgia e si porta sul 4-2. Pochi minuti dopo c'è ancora un'azione sempre dello stesso numero 9 Martinez che tira, scarta anche il portiere, poi tira e sulla linea il numero 15 del Borgia rientrante Pardo. Non può fare altro che fermare la palla con le mani per cui l'arbitro decreta il calcio di rigore e l'espulsione del giocatore del Borgia ma Papaleo manda fuori. Passano pochissimi minuti al 43esimo ancora Martinez ancora su una ripartenza da parte della squadra ospite a segnare il definitivo gol del 5-2. Quindi un risultato che non fa una piega a favore della squadra ospite che è davvero dimostrato di avere due giocatori, Martinez e Papaleo, davvero imprendibili che potrebbero fare la differenza in questo campionato. Per il Borgia invece la situazione si fa dura perché una giornata dalla fine del girone di andata si trova con ben 9 punti di stacco insieme con l'Aurora Reggio dalla coppia Villese-Taverna che ha 14 punti. Il che potrebbe significare con la regola dei 10 punti già con un girone ancora di ritorno da disputare di dire addio direttamente con una retrocessione diretta al campionato di promozione. E questo davvero sarebbe una cosa non certo auspicabile all'inizio ma certamente è un campionato difficile quello della promozione. Si sapeva che il Borgia oltretutto costretto a giocare le gare casalinghe in campo esterno al curto di Catanzaro Lido sarebbe stata davvero un'annata difficile.